La gigante è con lui e il profeta scrive, sentire da lui ci va Quando stiamo santi raggi, con lui diventa e diverterà con l'unità per l'umanità Siamo qui con Antonio, il batterista dei Parim Bam Boom, che è un gruppo che... Non fate una cover di un artista di un genere musicale, ma di uno stile di vita forse che sono i cartoni animali La verità è che soffriamo tutti della sindrome di Peter Pan, non riusciamo a invecchiare, solo l'involucro invecchia, l'anima no E quindi fondamentalmente i cartonimati ci permettono di rimanere giovani Ma infatti è uno dei motivi per i quali voi siete molto apprezzati, è proprio il fatto che chi vi ascolta torna un pochettino bambino L'effetto è time machine, proprio quello di tornare indietro nel tempo, soprattutto per chi è nella fascia d'età, 30 anni 30 anni lì, si torna indietro, si ricorda quei pomeriggi passati a guardare la tv senza pensieri fondamentalmente Sì, però appunto l'idea di diventare una band che fa soltanto canzoni di sigla dei cartoni animali Come, cioè vi posso capire una persona, ma proprio voi siete tanti, ci credete, vi piace, come vi siete conosciuti? In realtà molti di noi già suonavano insieme in altre formazioni Poi l'idea è avvenuta 10 anni fa, tra l'altro il 21 maggio festeggeremo 10 anni di attività, 10 anni di concerti, sì E quindi 10 anni fa è nata questa idea così un po' per gioco in sala prove Ed è lì praticamente si sono susseguiti alcuni cambi di formazione E questa formazione che è fissa dal 2012, come dire, ha raggiunto anche alcuni risultati importanti Perché abbiamo andato anche fuori dalla Sicilia e siamo riusciti a fare qualcosa che non credevamo all'inizio Io sono il batterista Antonio, poi c'è Enrico alla chitarra, tastiere Francesco, Ivan basso e voce E poi la nostra meravigliosa Federica in questo momento si sta riscaldando perché tra qualche minuto entreremo sul palco Una nuova realtà con le sue verità scaverà nel tuo passato E guardandola il tuo cuore è stata di trovare Dragon Ball Ciao a tutti amici e bentornati qui all'Exlogana Come potete vedere oggi siamo in più Ciao a tutti e questa ExTV Questa ci racconti oggi di divertente Sì 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 Cannocchiali che servono per conquistare le donne Telescopi I cannocchiali che servono per attraccare la... con le donne quale sono? I telescopi, telescopi Mi farei fare gestini che non vorrei Eh! Vanellà! All'interno del bar della Golden Area Oggi andremo a vedere come si lavora qui Stasera presenteremo un cocktail sour fatto con una parte bitter E un equilibrio tra gli agrumi e il dolciastro degli agrumi stessi Vi presento un bitter sour con essenze di mandarino e oli essenziali di agrumi Iniziamo mettendo all'interno di un mixing glass gli oli essenziali estratti a freddo di agrumi di Sicilia Sciroppo di zucchero Un po' di succo di arancia Successivamente un liquore homemade realizzato con un'estrazione di mandarini Adesso inseriamo un amaricante o bittering creato con un'infusione di cortecce di china È arrivato il momento di mettere il liquore Quindi inseriremo il nostro bitter Berto 6CL E passiamo alla shakerata E adesso possiamo filtrare e versare nel nostro bicchiere pre-raffreddato Inseriamo il ghiaccio e delle garnish fresche Un ottimo aperitivo per la vostra estate 2018 Benvenuti alla Dogana Se hai cento euro in una tasca e cinquanta nell'altra Tu cosa deduci? Sono ricca! Per questa sera sono ricca! Sbagliato! I pantaloni non sono i tuoi! Si era vergine! Si è vergine! No! Era grandissimo! C'è il ghiaccio? Quando la so dire? È un biondo artista! Mi spesso! Non ce l'ho ricordata! Presidente degli Stati Uniti! Lo salutiamo! Ciao! Siamo sottolizzati sulla Dogana! A presto! E fa vincere! C'è il ghiaccio? Non lo so! Andava a Lione cogliendo cotone! Tornava correndo cotone con gli etni! Andava a Lione Cogliendo cotone! Togliendo cotone! Tornavo correndo cotone con gli etni! Tornavo coglione togliendo correndo! Allora, controne, coglione, coglione, controne! Com'è? Sotto la panca la capra canta! Sotto la panca la capra crepe! Sotto la panca la capra crepe! Sotto la panca la capra crepe! Data del primo uomo sulla luna! Non lo so dire, sono sincero! 894! Oh, non lo so! Ti posso dire! Siamo qui in una discoteca bellissima che ci stiamo divertendo! Che c'è bella gente e bisogna stare ok! 1000! 900! 900! 50! 60! 68! Dove si trova? Incudine, martello e staffa! Oh, non lo so! Qua si è in orbita! Puoi pensere così? Stappa, incudine, martello e staffa! Io lo so! Nell'occhio! Nell'orecchio! Bravissima! Nell'orecchio! Bravo! Bravo! Un'altra puntata è finita qua! Ci vediamo alla prossima puntata! Ciao a tutti e questa è XTENDI! Ciao a tutti!